Ehi, saluta il capitano. No, non si saluta. Cheers. La nostra spedizione. Partiamo in questi vari momenti. Facciamo una tazza in mano. Noi si, non ti faccio neanche tutto il resto. Eccolo qua, qui c'è l'altro dell'ospedizione. Saluta la buona stampa. Eccolo. Davanti alla valga, che signore. Cheers. Non ti preoccupare, non l'ha neanche vista. Viva. Io non vero mai, tra l'altro. No, dopo. Andiamo a vedere il film. Fatti. La chitarra. Guarda, chi era? E' finito un attimo. Guarda, fai un po' di film. Mettiti bello. Ripara la riga. Ecco, c'era anche lui. Era vero. Piedva. Pirata. Piedva. Guarda, ne abbiamo 3. 2. L'ho detto per appoggi, sul mio l'avato. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti